Sono stato utente Windows fin dagli inizi e dal 1996 siti web, multimedialità, grafica e programmazione sono diventate il mio lavoro. Ho quindi sempre avuto esigenze professionali legate al PC, ma di Windows non supportavo sempre più aspetti. Ecco come sono passato da ritenerlo irrenunciabile a convinto sostenitore di Linux per fare tutto. Ciao, sono Dario. Ero indeciso se intitolare questo video cose che credevo di sapere di Linux, ma mi sbagliavo. Chiariamo subito però, non cerco di farti cambiare idea e di convincerti a lasciare Windows per Linux. Linux non è per tutti o per tutte le esigenze. Se ti trovi bene con Windows e i suoi programmi va bene così, non devi essere alternativo a tutti i costi. Talvolta non è neppure possibile, a causa di software o hardware che ti inchiodano all'ecosistema Microsoft. L'importante è conoscerle le alternative, capire se e in cosa si distinguono e decidere se possono andare per te. Se però non sei soddisfatto di Windows, sei particolarmente attento alla privacy, alla pluralità di scelte o solo per la curiosità su erronee convinzioni che Linux si porta dietro, allora eccomi. Ti faccio vedere che da tempo faccio di tutto con il computer solo con sistemi operativi e programmi liberi, gratuiti e open source. Ecco i floppy disk di Netscape 1.1 che nel 1995 ottenni con il primo abbonamento ad internet. Windows non integrava ancora il protocollo IP per collegarsi con il modem. L'anno successivo, per divertimento, ho pubblicato il mio primo sito web, realizzato in Windows 95 con l'editor HTML Hotdog Professional di Sausage Software e di programmi di grafica, Ulead Photo Impact e JASC PaintShop Pro. Non ero pronto per Photoshop e non esistevano ancora Dreamweaver Flash e Shockwave di Macromedia che di lì a poco mi avrebbero strappato definitivamente alla carriera da avvocato per cui avevo studiato, procurandomi ingaggi nel settore. Windows 98 e Millennium e relativi problemi li saltai perché ero già su Windows NT Workstation. Usavo il PC Windows anche per la mia passione per la musica. Usavo M-Track Studio e Fruity Loops piuttosto che software di Cubase. Ho utilizzato con Windows XP uno scanner Epson ancora validissimo dopo oltre vent'anni per sviluppare diapositive e negativi delle foto di famiglia. Le organizzavo con ACDC, di cui acquistai la prima licenza con la versione 2.0. Quando acquistai Photoshop 5.5, che introduceva il salvataggio ottimizzato per il web, ho anche acquistato licenze di ulteriori plug-in. Per i montaggi video ho provato tanti programmi, ma i miei preferiti sono sempre stati quelli di Pinnacle e più di recente Wondershare. Mi diverto da sempre anche con il multiplexing, cioè ad estrarre e trasformare DVD in DVX, gestire tracce audio surround, lingue, sottotitoli, conversioni tra i formati a 23 e 25 fotogrammi al secondo. Tutto e sempre solo in ambiente Windows e relativi software. Questa premessa da veterano informatico non è fatta per vanto, ma anticipa chi ritenga, come anche io facevo, che Linux potesse essere utilizzato solo da chi al computer richiede navigazione, web, email, ascolto di musica e poco più. Non credevo che sistemi operativi e programmi rilasciati gratuitamente potessero essere all'altezza. Ma era solo il primo dei miei grandi errori di valutazione su Linux. Insomma, a parte la parentesi basic dell'era Commodore o del mio Casio PB80, sono letteralmente cresciuto con tecnologie Microsoft, con esigenze particolari quanto ad hardware e software. E ho sempre difeso Windows contro limiti e chiusure dell'ecosistema Apple, ad esempio. La semplicità con cui colleghi un dispositivo USB come un lettore MP3 o un telefono per trasferire file. La maggior disponibilità di software e driver per periferiche e tanti altri argomenti. Però non ho certo apprezzato Windows Vista, immesso in un mercato hardware dominato da computer senza sufficiente RAM. All'epoca gestivo il punto vendita computer discount della mia città e ho visto Sony VAIO in carbonio o magnesio da 3.000 euro pieni di software spazzatura e RAM già insufficiente prima di cominciare a lavorarci. Ecco perché ci siamo tenuti XP in tanti finché abbiamo potuto. In molti abbiamo apprezzato Windows 7, anche io per buona parte. Ma quello che è avvenuto dopo? Non c'erano però solo questioni estetiche che non mi convincevano di Windows. Ad esempio non ho mai sopportato di non sapere perché, in alcuni momenti, senza operazioni particolari in corso, il mio computer con Windows cominciasse a sbuffare come un treno. Affaticato da attività spesso riconducibili al processo svcoost.exe di cui sono presenti sempre molteplici cosiddette istanze. Ma non posso sapere cosa stia facendo davvero il computer. Fa parte delle condizioni di uso di Windows non cercare di capire. Non sopportavo che un programma di masterizzazione di cd o un lettore di documenti pdf si infiltrassero come virus nel mio registro di sistema e occupassero sempre più gigabyte di spazio. Non sopportavo la corsa all'ampliamento di programmi di facile utilizzo che con sempre più funzioni perdevano semplicità e immediatezza per cui li apprezzavo inizialmente. Non sopportavo la necessità di formattare e riconfigurare il computer saltuariamente per mantenerlo efficiente, specie dopo installazioni e disinstallazioni di programmi. Viste le esigenze e malgrado l'abitudine mi servivano un elenco ordinato delle cose da fare e non meno di due o tre ore di configurazione e diversi riavvii anche con il computer più potente. Non sopportavo le attese inoperative degli aggiornamenti. Io non lascio il computer acceso di notte perché ne ha bisogno lui e quando mi serve non mi deve interrompere. Penso di fare meglio e apro Windows Update, controllo la disponibilità di aggiornamenti e passano minuti con il pallino che si muove a sinistra e destra senza che succeda alcunché. Ben prima del termine del supporto per Windows 7, quindi stavo già cercando un'alternativa che non fosse Windows. La sfida della compilazione del kernel 1.0 ed il dual boot di SUSE Linux con Lilo mi allontanarono per anni da Linux, convincendomi che fosse adatto solo ad un server, che spesso non prevede scheda video né monitor e si gestisce da remoto in forma testuale. Non vi bastava sapere che con Linux un antivirus non fosse necessario. Credevo fosse ancora un'impresa titanica dal risultato incerto far funzionare tutte le periferiche interne ed esterne. Immaginavo che non ci fosse altro modo che compilare sorgenti di codice o usare comandi testuali per poter usare decentemente un PC desktop con Linux. Pensavo fosse inferiorità di Linux. Inoltre credevo di non poter rinunciare ad alcuni software di uso per me quotidiano per anni e che ritenevo insostituibili. Ero certo che programmi gratuiti non potessero che essere miseri e scadenti, o che non avrei potuto fare tutte le cose che facevo con Windows. Lo confesso. Provavo tenerezza per chi usava Linux al di fuori di un server web o di posta con interfacce grafiche che vedevo e mi mettevano tristezza. Certe convinzioni però, in alcuni casi, si basano su cose sentite dire. Più che altro capita che una volta che ti sei fatto un'idea, anche di persona, pensi che le cose restino sempre così. Non sapevo ancora che Linux segue un ciclo di sviluppo continuo e velocissimo e che da un anno all'altro le cose cambiano e migliorano drasticamente. Ricordavo Debian e Fedora adatti a postazioni o workstation, ma da anni si parlava solo di Ubuntu. Ritenuto più semplice da installare e configurare e con un ricchissimo catalogo di programmi dotati di interfaccia grafica. Sapevo che Linux fosse arrivato al punto da farmi provare un sistema operativo prima ancora di installarlo e almeno in questo sembrava avanti a Windows. Per anni ho provato saltuariamente Ubuntu, avviandolo da CD, spesso per ripristinare l'avvio danneggiato di Windows in qualche computer o per curiosità. Ho installato Ubuntu 16.04 in dual boot con Windows. Fu inaspettatamente facile, rapido e non richiese installazioni di driver perché già ogni periferica interna ed esterna di miei differenti computer funzionava senza interventi, al primo avvio. Persino il lettore di impronte digitali funzionava dopo aver aggiunto un file alle installazioni. Ubuntu però ha resistito poco nel mio computer. Non mi piaceva l'interfaccia Unity. Le ricerche nel menu che restituivano risultati da Amazon e la scoperta di attività di tracciamento delle attività dell'utente non mi parevano il massimo. Le mie ricerche andavano avanti con le derivate ufficiali di Ubuntu. Prima Kubuntu, poi Ubuntu Mate, che almeno mantenevano un aspetto intuitivo simile a Windows che mi consentiva di concentrarmi sul software. Non mi interessavano questioni di contorno sul software libero o open source. Mi sembravano poco pratiche, irrilevanti e solo per idealisti. Io volevo solo un sistema operativo e software alternativi a Windows facili da installare, configurare e utilizzare. Che il sistema operativo fosse trasparente e non mi spiasse lo ritenevo indispensabile. Che fosse gratuito, un'ottima ragione in più per provarlo. Non sapevo quanto fosse facile preparare una chiavetta che consente di provare differenti sistemi operativi basati su Linux anche prima di installarlo. Cercando di destreggiarmi ancora tra le distribuzioni che cominciavo a chiamare GNU Linux e non più solo Linux, un colpo di fulmine. Linux Mint, Cinnamon, 18, Sara, appena rilasciato. Ma dove eri nascosto Linux alla menta? Perché nelle mie ricerche non ti ho scoperto prima, pensai? Grazie alla natura dell'open source, Linux Mint prende da Ubuntu ma lo spoglia molto più di altre distribuzioni Linux che usano la stessa base. Aspetto semplice, sobrio, gradevole. Chiunque abbia già usato un computer sa orientarsi all'istante. Il mio computer con 4 GB di RAM era rinato. Anche un vecchio portatile con 2 GB di RAM è tornato dignitosamente in servizio per diverse esigenze, grazie ai poco più di 600 MB occupati dal sistema interamente caricato. Impiego meno di mezz'ora per installare e configurare appunto un computer con Linux Mint e non ho bisogno di farlo spesso. Gli aggiornamenti possono essere applicati automaticamente senza che tu noti assolutamente nulla e non richiedono nemmeno un riavvio. Solo con l'aggiornamento del cosiddetto kernel è necessario riavviare per usare quello nuovo, ma il riavvio richiede il medesimo tempo di tutte le altre volte. Con gli aggiornamenti Linux migliore diviene più leggero. Il medesimo codice, alla base dell'aspetto di Linux Mint, è stato rivisto più volte in pochi anni e ora contiene il 30% di istruzioni in meno che in precedenza per fare le stesse cose. E infatti impegna ad oggi, in tutto, anche meno di 1 GB di memoria RAM. Certo, il primo impatto con alcuni programmi, abituato a Windows, mi restituiva inizialmente una sensazione di povertà o miseria di funzioni, ma poi ho cominciato ad apprezzare semplicità e immediatezza senza fronzoli. Di cosa ha davvero bisogno un lettore di documenti PDF? Quello preinstallato occupa 2 MB su disco e va benissimo. Se ti va stretto puoi usare Ocular e con Xornal e LibreOffice Draw ho potuto fare a meno di Acrobat. Ho scoperto che i miei scanner, scaricato un driver dal sito ufficiale, con un semplice doppio clic per avviare l'installazione, funzionavano con Simple Scan, programma open source da 1 MB e mezzo incluso nel sistema operativo. Servono più funzioni? Gscan2PDF fa di tutto con 20 MB. Ho sempre trovato confortevole la presenza di un pulsante Start ed un menu con tutti i programmi e con il campo di ricerca per isolare programmi, impostazioni e file recenti rapidamente. Una barra delle applicazioni posizionata in basso e sul lato destro le piccole icone per l'orologio e l'accesso a funzione di uso più comune. Viva la vera alternativa del desktop GNOME, ma perché studiare qualcosa di completamente nuovo? Con Linux Mint la curva di apprendimento è ridotta a zero. Una serie limitata ma completa di impostazioni, un po' di curiosità nel menu. Non richiedono di studiare, ma di concentrarsi piuttosto sulla scoperta di software alternativi a quelli per Windows. Passavo sempre più tempo nella partizione Linux Mint con il piacere di trovare programmi con cui stavo prendendo confidenza e con il piacere di poterli installare come da un telefono, con un click, senza pubblicità, senza periodi di prova, senza acquisti in app, perché tutti gratuiti e senza tracciamento sull'utilizzo. E di poter fare tutto o quasi senza aprire il terminale e digitare comandi su uno schermo. Con un po' di dimestichezza la sensazione che si faceva a strada in me era un po' quella simile a quando finisce l'inverno, ci si tolgono cappotti e indumenti pesanti e ci si mette maglietta, pantaloncini e ciabatte. Riproduttori audio, ne ho provati tanti, ma Audacious con l'interfaccia Winamp era giusto per me, perché potevo ancora usare le mie skin preferite e non richiede di creare un database dei miei 800 GB di musica FLAC. Cercavo editor di metadati alternativi a MP3 TAG per la mia collezione di musica, ed ho scoperto EasyTAG ed EXFALSO. Per l'organizzazione di foto, in alternativa a ECDC, ho scoperto GTHUMB, SHOTWELL e DIGICAM, ma a mio parere nulla è uguale a PIX di Linux Mint che è basato su SHOTWELL. Diversi dei programmi per audio e video che ero già abituato ad usare esistevano anche per Linux. OpenShot per il montaggio video non era male anche se mi andava stretto. Programmi gratuiti, ma proprietari come TeamViewer, Skype, Teams, Telegram, Whatsapp, Zoom, Dropbox, Google Drive, sono disponibili anche per Linux. Nessun problema per Spotify, Netflix o Prime Video. Le cose che avevo bisogno di fare ancora con Windows erano sempre meno. Restava il grosso problema di Dreamweaver e Photoshop soprattutto, perché non potevo certo nilunciarci. Così credevo. Fu quindi una scoperta incredibile per me sapere che grazie all'emulatore chiamato Wine, versioni pur non aggiornatissime dei programmi Adobe e tanti altri programmi realizzati per Windows sono installabili e funzionano anche in Linux. Questo non lo sanno in molti di quelli che dicono che non possono lasciare Windows a causa di un singolo programma. Lentamente è subentrata in me una forma di ostinazione. Ammetto che non sia da tutti. E nel tempo libero ho cominciato ad operare GIMP per restaurare foto, imparando dal manuale in italiano e nel forum dei miei amici di GIMP Italia ogni giorno di più. Oggi non uso più Photoshop né Illustrator da anni per GIMP e Inkscape che non sono di certo la stessa cosa. Non uso più Office, ma LibreOffice e talvolta OnlyOffice. Ma se anni fa lo ritelevo un limite, oggi lo ritengo un punto a favore. Per Dreamweaver e lo sviluppo dei linguaggi legati al web non ho trovato subito un vero sostituto, ma vi ho rinunciato passando ad Atom e poi a VS Codium. Nei poco più di 200 MB di KDN Live, gratuito e aperto, ho trovato uno strumento per editing video con funzioni incredibili, rilevamento dei movimenti, rotoscopio, chroma key e una gestione del colore che hanno assai poco da invidiare a PowerDirector, Pinnacle Studio e direi anche Premiere. Ho trovato programmi gratuiti per gestire i miei multi effetti zoom per basso e chitarra. Per non parlare di software per produrre musica e ottenere risultati che in ambiente Windows mi costringevano a sborsare cifre non da poco per software Magix o Cubase. Mano a mano che la mia esperienza con GNU Linux e relativi software applicativi si ampliava, mi ponevo nuove domande. Come è possibile che sia tutto gratuito? Come fanno a guadagnarci quelli che li sviluppano? Non avevo ancora capito molto dell'importanza delle comunità di sviluppatori e di mettere mano al portafogli per supportarli anche se in cambio non predendono nulla. Dopo decenni di Windows o una professione legata per buona parte alla grafica, alla multimedialità e allo sviluppo di siti e applicazioni web non sono passato certo a GNU Linux per ragioni di risparmio. Dei soldi risparmiati in licenze destino una parte a supportare saltuariamente non solo Linux Mint ma anche altri progetti open che per me fanno davvero la differenza. Ho scoperto che se hai problemi con il Bluetooth o altre periferiche, ed è raro, non è colpa di Linux, ma di alcuni produttori hardware in particolare che non rilasciano driver per Linux né i sorgenti per poterli facilmente replicare. Prima di comprare una periferica hardware, verifica nel sito del produttore se ci sono driver per Linux e ti tagli ogni paura. Potresti trovare scritto che non hai bisogno di un nuovo driver perché è già incorporato nel kernel Linux. Ti basta quindi collegare la periferica e funzionerà. Perché Linux viene usato su poco più di tre postazioni di lavoro su cento in tutto il mondo invece che da tutti mi chiedono talvolta? Beh questo dipende dal fatto che chi produce computer non vuole farti sapere che ci sono altre possibilità. Se entri in un certo commerciale, quanti computer senza Windows o macOS trovi? Eppure la stragrande maggioranza di essi è utilizzabile senza il minimo problema anche con Linux. È chiaro che si vuole evitare che tu possa utilizzare tecnologie diverse da quelle con cui il computer ti è stato dato. Se poi già a livello di educazione o pubblica amministrazione, in barba al codice dell'agenzia digitale, si scelgono costosi software proprietari, invece che soluzioni aperte, gratuite e rispettose di standard, non si va lontani. Specie perché Microsoft presidia ministeri e istituzioni. Lo prova il fatto che in periodo di lockdown giustizia e istruzione sono state gestite a livello telematico quasi esclusivamente con tecnologie Microsoft. Ammetto che è stata la comunità di utenti Linux più esperti di me ad aiutarmi a comprendere le ragioni della grande libertà che significa scegliere il kernel Linux e programmi del progetto GNU. Libertà dal tracciamento sistematico delle attività. Privacy. C'è chi era assegnato sull'argomento, buon per lui, ma io non lo sono. Ritengo almeno che tu debba comprendere la tecnologia che usi. Così usare quella piuttosto che un'altra è almeno frutto di una scelta. Sia ben chiaro, non tutti hanno tempo, ostinazione e voglia di imparare software di tanti tipi diversi. Certo, in ambito cosiddetto serio, aziendale e lavorativo, non si può pretendere di soppiantare attività basate su soluzioni Microsoft, Adobe, Autodesk per dirne alcuni. Specie se poi in scuole di ogni livello, tra cui anche lo IED, incontri esami basati esclusivamente su software commerciale. Linux significa libertà. Dai processi di obsolescenza programmata dell'hardware. Il tuo computer non rispetta i requisiti per Windows 11. Libertà di realizzare documenti usando formati di file aperti che non costringono i miei interlocutori ad aver installato uno specifico programma. Libertà. Ecco il concetto di free software. Non è la gratuità, ma la libertà del termine inglese free su cui si pone l'accento. Ma puoi desiderarla solo se te ne senti privato. Quanto bello sapere che i programmi che uso oggi con profitto non solo funzionano in qualunque distribuzione GNU Linux, ma anche in Windows e macOS. Che grandi lezioni ho imparato in questi anni in cui posso finalmente dire che da 6 uso solo software open source. Oggi sono io a sorridere con tenerezza a chi usa sistemi commerciali e manifesta le stesse errate convinzioni che io avevo su Linux. Insomma, solo se sei insoddisfatto di Windows e hai valide ragioni per interessarti a Linux, potresti aver scoperto diverse delle motivazioni che mi hanno spinto come te a cercare altro. Puoi scoprire tante altre informazioni che finora ho messo insieme nel blog e nei video o nei testi che ho pubblicato. Potresti trovare quella stessa spinta che in molti mi raccontano di aver trovato per lasciarsi alle spalle Windows e per cui mi ringraziano. Che per me è una ricompensa enorme che si aggiunge all'entusiasmo per Linux che dopo anni cresce ancora. Viva quindi la molteplicità di scelta e viva Linux. Grazie per il tuo tempo e alla prossima. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.